Buonasera, sono Giulio dell'Orto di Giulio. Questa sera vi presentiamo una ricetta che ci ha gentilmente consigliato Maria Grazia Tomaselli di giallo zafferano. Dunque, la ricetta è molto semplice e prevede i seguenti ingredienti. Ci vuole il sale grosso, l'alloro, il rosmarino fresco, la salvia fresca, i semi di finocchio, la maggiorana sempre fresca e il pepe nero. Bene, cominciamo ad inserire gli ingredienti nel mix. Cominciamo con il sale grosso. Si continua con 4-5 foglie di alloro, sempre fresco, colto proprio ora. E si passa al rosmarino. Sia il rosmarino che le altre piante officinali le abbiamo qui a portata di mano. Abbiamo messo proprio qui a disposizione nell'Orto di Giulio tutte le piante officinali che servono per fare queste cose. Poi si passa alla salvia. Dopodiché si passa alla maggiorana, perché la maggiorana abbiamo l'opportunità di trovarla proprio qui nel orto in cucina. Poi mettiamo i semi di finocchio e poi mettiamo il pepe nero. A questo punto non rimane che mixare il tutto. A questo punto è tutto nel mix. Si macina il tutto. La mettiamo in un recipiente, un recipiente qualsiasi. E la passiamo al forno, perché per un 2-3 minuti le verdure fresche devono seccare. Il nostro sale è pronto. Buon odore. A questo punto per conservarlo lo mettete in un recipiente ben chiuso. Ottimo. Chiaramente il buon odore è tutto dovuto molto alle piante fresche che abbiamo qui nel nostro orto a disposizione. Dunque, a questo punto la nostra ricetta è finita. Non ci rimane che ringraziare tutti, salutarvi e ci vedremo alla prossima ricetta.